un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla FIPILI per lavori un chilometro di coda tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze sulla A1 fare attenzione per neve prevista sul tratto appenninico tra Aglio e Calenzano e tra Firenze Sud e Fabbro su raccordo autostradale Siena a Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonzi e Tavarnelle sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate senso unico alternato all'altezza del chilometro 27 nel comune di Borgo ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo sulle autostrade e sulle strade a lunga percorrenza Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze vi auguriamo un buon viaggio Grazie a tutti! Grazie a tutti!